Salve a tutti, oggi voglio parlare dell'LM317. Che cos'è l'LM317? È un circuito integrato, che qui vedete a fianco nel suo package TO220, molto diffuso e molto conosciuto, soprattutto per la sua applicazione nei regolatori di tensione. Anche se, dando uno sguardo al datasheet, si potrà apprendere come questo integrato possa essere utilizzato in altri circuiti, in altre applicazioni, come regolatori di corrente, generatori di corrente costante, o in circuiti atti alla ricarica delle batterie. L'applicazione di cui noi parleremo sarà quella più comune, ovvero quella di regolatore di tensione, e lo schematico, il circuito elettrico, è già riportato sul foglio. Il circuito è davvero molto semplice, infatti ritroviamo qui rappresentato l'integrato con i suoi tre pin, ovvero il pin di input, il pin di output e il pin di regolazione che viene connesso al nodo del circuito di feedback. Come si può intuire da questo semplice circuito? Quindi questo integrato lavora con modalità di un LDO, quindi può erogare tensioni in uscita solo più basse di quelle di ingresso e soprattutto è di tipo dissipativo. Quindi regola la tensione di uscita andando a generare una caduta di potenziale fra i suoi pin di uscita e ingresso, quindi andando a moltiplicare questa caduta di potenziale per la corrente assorbita dal carico in uscita otteniamo la potenza dissipata da questo integrato per funzionare. Quindi i componenti di questo circuito sono il condensatore di ingresso, il condensatore di uscita e la rete di feedback. Infatti andando a regolare queste resistenze andremo a determinare la tensione che c'è su questo nodo ed è proprio da questo nodo a seconda di ciò che legge il pin dell'integrato si andrà ad effettuare la regolazione della tensione di uscita. Inoltre su questo nodo è consigliabile andare a mettere una piccola capacità in modo da filtrare un eventuale rumore che possa presentarsi e che quindi creare un ripple in uscita indesiderato. Per calcolare la tensione di uscita si usa questa formula che ritrovate anche sul datasheet e dove abbiamo che la tensione di riferimento è pari a 1,25 volt mentre la corrente di regolazione che esce dal pin dell'integrato è pari a circa 50 µA. E poi le restanti parti della formula sono appunto il rapporto fra R2 ed R1 quindi come abbiamo detto prima del partitore resistivo di feedback. Inoltre nota molto importante di questo circuito è quella di montare sempre i diodi D1 e D2 infatti senza la presenza di questi diodi potrebbero capitare situazioni in cui l'integrato si può rompere e i casi in cui si può rompere sono quando la tensione di ingresso diventa minore della tensione di uscita e questo si verifica per esempio quando noi andiamo a staccare questo circuito dalla sorgente di alimentazione e magari il condensatore di uscita o questo condensatore di regolazione restano carichi. Perché l'integrato si va a rompere? Perché all'interno la sua circuiteria nell'ultimo stadio di potenza è composta da un transistor NPN. E che cosa succede quando noi andiamo ad alimentare un transistor NPN al contrario ovvero mettendo il più sull'emettitore e il meno sul collettore? Succede che il transistor si buca quindi onde evitare che questo fenomeno succeda anche in questo circuito andando a mettere questi diodi di ricircolo evitiamo che l'LM317 vada a rompersi. Quindi adesso andrò a riportare questo circuitino su una schedina con questi valori che ho selezionato e poi andremo a fare qualche piccolo test per verificare che il circuito effettivamente funzioni. Ho riportato il circuito su una schedina 1000 fori. Come si può vedere come design viene anche abbastanza compatto quindi molto comodo nel caso si volesse utilizzare in qualche circuito. Quindi questi sono i due diodi condensatore di regolazione, il condensatore di ingresso e di uscita e il trimmer con cui andrò a variare la resistenza. Questi saranno i due connettori di ingresso e questi due connettori di uscita. Adesso andrò ad alimentare il circuito con una tensione di 24 volt. Ho connesso il circuito all'alimentazione e in uscita ho collegato un voltometro. Quindi adesso andando a regolare il trimmer vediamo come in effetti la tensione di uscita varia. Ok questo è il valore minimo andando al contrario quindi poi va a risalire. Quindi a seconda della tensione di cui si ha bisogno basta regolare il trimmer e quindi regolarla a piacere. Come abbiamo potuto vedere quindi il circuito funziona perfettamente. Ultima nota importante da tenere sempre in considerazione è che questo integrato riesce a lavorare fino a una tensione di ingresso massima di 36 volt e può reggere una corrente di massimo 1,5 ampere se ovviamente è anche ben dissipato. Molto bene per questo video quindi è tutto alla prossima!